Fare un film con i migliori. Lola Quevas, la regista, è la più quotata in questo momento. Ivan Torres e Felix Rivero sono gli attori ideali per questo film. Prima prova, eh? Ivan è un maestro e Felix è una star a livello mondiale. A me interessa la tensione che c'è tra loro. Sono pronto. E non è la prima volta che io lavoro con un idiota. Io già vedo noi due ricevere un Oscar nel Dolby Theater. Siamo pronti? Scusami se ho un'elezione e scusami se non ce l'ho. Perdonami. Il poveretto è sposato da 28 anni con la stessa donna e alla fine si vede. Non ridere che nemmeno tu trasmetti molto, eh? Ora vi faccio vedere una cosa. Miserabile. Gretto. No. Un momento. Non finisce così? Manca la conclusione. Non finisce così. Non finisce così. Grazie a tutti.